eccoci, eccoci qua in diretta da Serena Bianca, Valentino lo sforzamento della spicola vale al sale guarda che bella zio, vieni, guarda che bella, vieni zio, non ti preoccupare, vedi che bello? guarda Valentino come la fa toglie prima il sale, vedi, poi la mette nel piatto e gli raiva il sale, hai visto? tanto la testa non la vuoi, la signorina no, no hai visto che gli ha fatto il pescetto? hai visto quanto è bravo Valentino? eh? Diego sta diventando il mondo, sta diventando famoso eh? sì eh sì e questo è bello zio, è solo Diego c'è la sua pesce a Roma e Namo, guarda qua, ti è guarda, c'è dentro un altro pesciolino che ha mangiato, guarda dai guarda oddio, hai visto? hai visto? c'è un altro pesciolino che ha mangiato, zio? l'hai visto? mannaggia è vero, non è vero zio non è vero, dì un po' guarda qua hai visto che roba zio? eh? hai visto come l'ha fatto? ecco qua ecco qua vai ciao ciao